A Cesenati cove in Sena l'ultima giornata di prima categoria Gironi e l'ultimo derby tra formazioni di Cesenate con i padroni di casa sicuri della seconda piazza dietro la sola stella e dei playoff mentre Sala già salvo punta a chiudere in bellezza la stagione si gioca in una giornata condizionata a forte sole da temperature elevate estive e dir poco arbitra la gara Michele Giorgioni della sezione di Cesena con l'immagine a cui Giacomo Alpini ci spostiamo al minuto 9 dove al primo affondo di Sala si procura i penalty generosa penetrazione a cura di Milzoni spintonati in corso da Fiaschini per Giorgini trattasi di penalty da discreto quarta imita Totti ma viene fuori anziché un cucchiaio un cucchiaino per la parata facile di Fabri da qui in avanti solo Bacchia l'occasionissima per sbloccare la gara capita a Boschi Urbini si salva come poco il numero 11 di casa che non riesce a trovare successivamente i tappi vincente padroni di casa che manovra normalmente palla in area di rigore portando alla battuta finale qua Ita Urbini blocca a terra dalla distanza ci prova anche Guagneli senza fortuna i padroni di casa trovano vita facile su questa azione arriva la conclusione al volo Boschi Urbini si salva anche in questo caso come può dopo la mezz'ora la gara si sbrocca Carlozzo trova una voragine davanti a sé libero di avanzare si porta dentro l'area di rigore calciando addosso a Urbini che compie un altro miracolo ma la sfera finisce sulla testa di Giunchi che nell'occasione segue il compagno trovando la deviazione vincente 1-0 e festa grande tra i padroni di casa Isala si prova dalla distanza con Machiouf che sporca la conclusione del compagno ma è una comoda presa per Fabri è solo una parentesi perché Bacchia con Boschi chiama all'intervento nuovamente Urbini è la volta di Corradini nulla a che fare con l'ex terzino di Napoli Torino Urbini risponde presente nella ripresa Isala non riesce a trovare fortuna il colpo di test di Faschini viene respinto dinanzi a Fabri Isala si vede all'altra parte con due calci piazzati entrambi terminati sul fondo prima a calciare Faschini e infine Guagneli Sala pericoloso con questo tiro cross non agganciato sotto misura da Machouf all'86 Isala pervene a raddoppi gode il nuovo entrato Marconi che sotto misura realizza il definitivo 2-0 un gioco da ragazzi per il giocatore in maglia numero 16 nell'extra time un'occasione per parte il tiro di Pagliarani viene bloccato in due tempi da Fabri infine Boschi si vede chiudere ottimamente lo specchio dalla porta da Urbini in uscita Game Over Bacchia 2 Sala 0 Bacchia 2 Sala 0